Siamo con Stefano Luongo, appena finita la sfida contro l'Ortigia Siracusa, vittoria per il pallanotto Banco BPM Sport Management. Stefano, chiedo a te quello che ho chiesto in precedenza al mister e al capitano, dopo una partenza a rilento le cose si sono sistemate nel secondo e nel terzo tempo. Sì, siamo partiti contratti, un po' con la testa già alla finale, anche se ci dicevamo che non dovevamo già avere la testa a sabato, però anche inconsciamente forse la testa è già là e quindi siamo partiti un po' contratti, anche magari fisicamente non siamo partiti al top e quindi siamo andati sotto 4-1, però tutti noi avevamo la sensazione di poter ribaltare il risultato, infatti abbiamo messo a posto alcune cose a livello tattico e poi siamo andati lisci fino alla fine. Inevitabilmente chiedo anche a te qualcosa della partita di sabato, evidentemente una sfida importantissima, la prima finale di Sport Management contro una squadra detentrice del titolo che era venuta a vincere qui durante il gironcino, però evidentemente sarà una partita completamente diversa ora. No, certo, ogni partita è una storia a sé, come noi con la Proreco che in casa loro abbiamo perso abbastanza largamente, invece qua in casa abbiamo perso 22 secondi alla fine ed eravamo avanti, quindi ogni partita è una storia a sé e noi andiamo là per giocarci, assolutamente vogliamo vincere, vogliamo fare bene, comunque l'intenzione di andare là è fare bene per poi giocarci tutto in casa al ritorno e sicuramente loro sono una formazione fantastica, prima in Ungheria, però ripeto il nostro vantaggio è non essere tra virgolette così favoriti alla vigilia e quindi possiamo andare anche un pochino più tranquilli psicologicamente, forse sarà la carta vincente.